Ormai si sa, per continuare a percepire il reddito di cittadinanza, secondo i nuovi dettami introdotti nella legge di bilancio, ebbene sì, bisognerà lavorare. Niente di particolarmente impegnativo dal punto di vista delle ore richieste, ma comunque un impegno, un impegno che non tutti sono disposti ad assumersi. A Venafro, per esempio, su 27 percettori chiamati ai colloqui, tre hanno rifiutato, anzi, che poi è lo stesso, non si sono nemmeno presentati. Tanti, pochi, giudicate voi, fatto sta che perderanno il beneficio. È la conseguenza del rifiuto ad essere impiegate nei PUC, i progetti di utilità collettiva, in tutto otto ore settimanali, a supporto del comune o nella sede dell'ambito sociale di zona, sugli autobus e negli uffici, le donne, per gli uomini invece previsti lavori di manutenzione urbana. Dunque, contrariamente a quanto paventato inizialmente dai destinatari della misura, non richiesto alcuno spostamento, né fuori provincia, tanto meno fuori regione, il lavoro è a casa, un aspetto anche questo che contribuisce a far riflettere sulle motivazioni delle persone che, legittimamente, ci mancherebbe, hanno scelto di non lavorare. Per tutti gli altri e per gli esonerati, invece, a breve lo step delle visite mediche e anche in quella fase potrebbero esserci delle sorprese.